A Gromo ci sono lavori pubblici in partenza, altri invece che sono già partiti, quindi interventi in corso. Facciamo il punto iniziando da un intervento alle scuole, che è quello per la nuova mensa. Sì, sono iniziati i lavori proprio quest'estate per la realizzazione della mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo di Gromo. Un'opera da 600.000 euro, quasi interamente finanziati grazie a un bando del PNRR. I lavori sono stati giudicati alla società Spedil e sono ora interrotti per la ripresa delle elezioni e riprenderanno la prossima estate. Per cui a fine agosto 2025 l'opera sarà ultimata. È un'opera molto importante che ci permette di non farci trovare impreparati e di sopperire anche alle sempre crescenti richieste da parte delle famiglie di modificare l'attività scolastica mediante l'introduzione del tempo pieno. È un edificio sul quale stiamo cercando di intervenire per risolvere alcune criticità. A tal proposito fondamentale sarà proprio anche la sistemazione della strada che collega con la rete a Gromo per la quale il comune di Valgoglio e di Gromo hanno ricevuto ben due finanziamenti, uno da 700.000 euro e uno da 1.400.000 euro. Rimarrà una strada secondaria ma permetterà l'accesso proprio alle scuole con il mezzo dei vicili del fuoco. Parliamo sempre di scuole, ma in questo caso di scuole chiuse da tempo. Mi riferisco alle ex elementari di Boario. Qui invece un intervento che partirà a breve. Esattamente. Stiamo per riqualificare anche quell'edificio di Piazza Trento a Boario per un'opera complessiva di 800.000 euro che è stata possibile grazie a un finanziamento ricevuto da un bando di Regione Lombardia e il bando Rigenera per un finanziamento di 400.000 euro e altri 90.000 euro da GSE Conto Termico. Anche questi lavori sono stati aggiudicati, in questo caso l'impresa MDR. Cosa verrà realizzato in quello stabile? La riqualificazione di quell'edificio permetterà di creare una sala polivalente e diversi spazi adibiti allo smart working che è un'attività sempre più richiesta negli ultimi anni. Sono invece in corso i lavori per la riqualificazione di Palazzo Franzini per intenderci l'edificio che ospita la biblioteca. Qui a che punto siete? Siamo quasi al termine della ristrutturazione. Contiamo di inaugurare quest'opera nel giro di due mesi ed è un'opera fondamentale, probabilmente da 40 anni un po' l'obiettivo delle amministrazioni comunali e ospiterà appunto la biblioteca, tutti gli uffici comunali, l'associazione anziani pensionati, il corpo musicale e anche le poste. Ricordiamo in questo caso quant'è l'investimento? Si tratta di un'opera da 1.600.000 euro in gran parte finanziata dal bando Borghi Storici di Regione Lombardia. Grazie. Grazie.